Il signor Buonaventura salva cece dalla rapina. Qui comincia la sventura del signor Buonaventura, che del gas andando a letto non ha chiuso l'urbinetto. Risvegliato poco dopo, con il fiato corto e fioco, fa uno sforzo per andare, la finestra a spalancare. A quel lato il bel cece, con la dama dolce i piedi, ma in agguardo sul cantone, troncurento sta un fellone. Mani in alto! Aiuto! Esclama, spigottita la madama, è svenuta da a cadere fra le braccia il cavaliere. Le persone tutto a un tratto, si spalancano di scatto, e non riscono un fruttante, che stranazza boccheggiante. Quando Stensi al fin riacquista, la signora, a quella vista, crede che cece sia stato, a coltirlo impugilato. O mio prode salvatore, grida allora con calore, questa proda di valore, tutto merita il mio amore. Cece è, senza termotto, da un milione sotto sotto, per la splendida figura al signor Bonaventura. Grazie a tutti.